carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata chissà forse potrebbe essere l'ultima del ciclo di catere l'ultima perché stiamo affrontando giudizio universale che è l'ultimo dei nuovissimi mondi e stiamo già a buon punto quindi veramente oggi potremmo concludere questa è la trentesima tra l'altro catechesi quindi è un numero significativo ecco a 30 anni Gesù ha cominciato la vita pubblica e noi l'età matura per avere un pochino chiaro l'orizzonte della vita e quindi sapere come camminare per raggiungere i posti convenienti ecco perché abbiamo imparato forse abbiamo ripassato durante queste nostre conversazioni ecco i posti da come dire da desiderare da ambire e quelli assolutamente da da evitare sono abbastanza contento perché questo è un ciclo di catechesi diciamo così dottrinale dogmatico e quindi ci siamo lasciati guidare dalla sacra scrittura dalla sana dottrina della chiesa quindi da definizione dei concili e dei papi come ormai sappiamo in tutti quanti gli argomenti e il catechismo della chiesa cattolica quindi il nuovo catechismo e poi il pensiero di san tommaso che certamente pur essendo per certi aspetti evidentemente contingenti ne vedremo forse qualcuno anche stasera un po' datato perché risente evidentemente delle conoscenze per certi aspetti limitate che c'erano il medioevo tuttavia nella sua sostanza mantiene un valore immutabile ed universale e peraltro normativo nel senso di essere un punto di riferimento sicuro e autorevole per avere qualche criterio di approfondimento sapete che come tutti quanti teologi anche san tommaso faceva il teologo come dovrebbero farlo tutti i teologi con un semplice scopo di approfondire un po' dando un pochino più di chiarezza e di contenuti a quello che la sacra scrittura e la rivelazione e anche il magistero ci trasmettano quindi il teologo diciamo così se mi si passa questa espressione fa qualcosa di non molto diverso da quello che fa nostro signore quando si vede che i teologi dormono un po' con le rivelazioni private non dice cose nuove non deve dire cose nuove anche se oggi teologi fanno a gara nel dire stramberie e cose nuove ma non dovrebbe fare altro che approfondire quindi focalizzare dettagliare dei dati che sono già rivelati perché con il dovuto rispetto la rivelazione non la fanno gli uomini la rivelazione la fa l'uomini e dio noi dobbiamo stare dietro e dare letta a quello che è stato rivelato da dio in quanto credenti e cattolici non da quello che dice il teologo x o il teologo y un tempo questa cosa era molto chiara e anche molto chiara nel senso che quando qualche teologo per carità ci sono anche dei campi lo faccio anch'io dei campi di ricerca anche qui abbiamo affrontato un tema che ho detto tante volte il limbo che pur essendo avendo fatto parte di una certa tradizione anche magisteriale della chiesa e catechetica perché ne parlava espressamente il catechismo dell'esempio decimo del limbo quindi adesso non ne parla più il nuovo catechismo perché appunto alcuni novelli teologi ne hanno messo in dubbio l'esistenza e non essendo un a differenza degli altri tre nuovissimi come il purgatorio il puore al paradiso e l'inferno un dogma qualcuno si è come dire sentito legittimato a poterlo mettere in discussione con le mode insomma che ci sono io però evidentemente ho specificato quando ho parlato di questo argomento che non si trattava di un dogma definito per cui anche se come ho cercato di far emergere è stata una dottrina comune per secoli andare contro una dottrina comune ci vuole coraggio perché ordinariamente quando si va contro una dottrina comune non si è eretici ma si è come dire passibili di essere redarguiti come temerari quindi la dottrina che contraddice la dottrina comune si chiama tecnicamente dottrina temeraria quindi il teologo fa fa questo approfondisce anche anche so bene insomma che molti teologi contemporanei non sarebbero non sottoscriverebbero quello che sto dicendo perché hanno un'altra concezione della teologia a mio modestissimo avviso di matrice protestante perché sono i riformati e riformatori che in cui essendoci libero esame quindi non c'è un magistero e quindi il teologo lì ne tira fuori è lui l'autorità perché capite che significa avere che grande dono che ci ha fatto il signore perdonatemi questa digressione tanto stiamo all'ultima puntata no che grande dono che ci ha fatto il signore nell'avere il magistero autentico a cui fate attenzione sono vincolati anche concili e papi cioè immaginando per assurdo che ci fosse un concilio o un papa che vada contro il magistero autentico ci dovrà arrivare un momento a parte il fatto che la coscienza del fedele in ogni istante se questo accade non è ovviamente tenuta ad ascoltare nessuna cosa che anche ambiguamente vada contro qualche cosa che sarà già detta e definita uno e due se dovessero se dovessero permettere situazioni di questo genere quindi prove di questo genere o vicissitudini di questo genere state tranquilli questo lo metto nero su bianco che arriverà poi un papa o un concilio è già successo nel corso della storia che dirà guarda che lì qualcuno si è si è bevuto un pochino il cervelletto quindi dimenticate quello che è stato detto in quel concilio o in quella circostanza è già successo quindi questo è un grandissimo aiuto capite perché non si può alzare nessuno la mattina né un teologo ma nemmeno un vescovo ma nemmeno un cardinale e nemmeno un papa anche se io sono sempre la grande remora pensare che un papa un papa possa il papa che è per definizione il custode della rivelazione perché c'è il compito che Gesù ha dato a Pietro uno è quindi è chiaro che un papa rimane un essere umano per cui in teoria però io personalmente ci sono tante posizioni su queste le dottrine che sono girate nel corso della storia il papa eretico ma io rispetto chi 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 dice queste cose perché su questo ci sono posizioni differenti per la mia sensibilità personale dire papa eretico è dire uno simolo cioè per cui il papa non può essere cioè ma io posso stare a pensare cioè una cosa di questo genere cioè ci sono ci sono molti guardati in giro che ritengono questa cosa possibile io personalmente proprio dico amici miei non ce la faccio poi vi ripeto queste sono cose controverse se qui proprio stiamo nella nel campo delle 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 opinioni no perché però ognuno può c'ha le sue idee le sue idee personali la sua coscienza io faccio 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 difficoltà però non sono un canonista questi discorsi che fanno i canonisti queste cose qui io sono nessuno però quello che ho studiato un pochino è un pochino di di dogmatico quindi un pochino di di magistero quindi a me come dire da ignorante per quanto riguarda il diritto canonico perché conosco il diritto civile ma il diritto canonico se ho fatto due esami all'università civile ma non è che conosco non è che sono all'altezza di un canonista come dire licenziato o dottore dentro la chiesa cattolica no non lo sono quindi se dico qualche strafalcione mi perdoneranno però come non mi voglio definire teologo perché non mi sento di essere quindi come povero prete che ha studiato un pochino di queste di queste cose dico io che cosa ti vado a raccontare a un fedele quando gli ho sempre detto insomma che nella chiesa è fondamentale che ci sia una persona ed è pieto con i suoi successori che è proprio il compito e tu una volta ravveduto conferma i tuoi fratelli a te io do le chiavi del regno dei cieli tutto ciò che legherai cioè quindi non io personalmente insomma ho tra secolo quindi dinanzi a un'ipotesi di questo genere poi ti dicono ma è successo storicamente c'è chi cita o non mi ricordo adesso o non rio terzo o non rio quarta anche se per quel poco che ho studiato dico poi bisogna sempre capire no perché per tacciare qualcuno di eresia quello deve contraddire una non perché che che un altro esponente del magistero possa dire una cosa che è successiva come dire sbagliata ma che viene definita come tale successivamente e questo è questo certamente che è possibile è ammissibile ma che un successore di Pietro cade in eresia formale cioè che dica contraddica una cosa che è già stata definita come verità di fede vabbè comunque chiuse queste il senso di questa cosa ringraziamo il Signore che ci troviamo nella Chiesa Cattolica dove abbiamo questo sbarramento non è che uno si alza la mattina e dice le cose stanno così può anche dirlo d'accordo ma numero uno la coscienza formata dice ragazzo tu predica come ti pare questo è importantissimo di questi tempi figlioni miei cari perché sapete quante volte mi vengono a dire ho sentito il teologo X ho sentito il prete Y ho sentito pure il vescovo mi si perdoni insomma così dicono poi speriamo che se lo siano inventato che dice questa cosa qui quando una persona si discosta pensiamo negli anni 70 ma l'abbiamo visto no? il diavolo non esiste l'inferno non esiste le possessioni erano malattie psichiatriche Gesù non ha fatto nessun esorcismo hanno detto che Gesù non era veramente risorto che è risorto soltanto nella fede della comunità cattolica e quante stupidaggine che hanno fiondato il purgatorio non esiste l'inferno è vuoto se esiste cioè è tutto hanno detto no? certo sono prove che il Signore permette non si dovrebbero sentire dire queste cose negli ambienti specialmente nei nostri ambienti viviamo in un tempo di questo genere la difesa in un tempo di questo genere qual è? cioè adesso io ci metto il mio piccolo contributo spero di non aver detto stupidaggini e corbellerie cioè io volontariamente non lo farei mai ma la difesa è una sana formazione perché se poi qualcuno si ritiene di essere più grande del Padre Eterno perché se uno va contro il Magistero autentico è comunque più grande del Padre Eterno perché il Magistero autentico è da credere d'accordo? non è una cosa il Magistero autentico è sigillato dallo Spirito Santo è garantito da Dio è un uomo che mi vengono a dire non ci sta questa cosa nella Sacra Scrittura ma dico ma ah io non ci credo dove sta scritto nella Bibbia che è la Madonna Immacolata? sapete come gli dovete rispondere? l'ho detto in una diretta questi giorni sì, non ci credi? perché l'ho scritto nella Bibbia? va bene allora ti rispondo allora io potrei non credere nella Santissima Trinità perché trovami soltanto un passo della Sacra Scrittura dove c'è scritto Santissima Trinità trovamelo se me lo trovi è viva trovalo quindi scrittura tradizione e Magistero cioè questo è perché il nostro Signore fa le cose fatte bene cioè che la Chiesa Cattolica sia la Chiesa di Cristo e che la Chiesa di Antica oggi nei dialoghi ecumenici questa è l'unica vera Chiesa cioè nel senso che lì dove si trova tutti e sette i sacramenti la pienezza della verità e dove è garantita la successione apostolica queste tre cose sono gli elementi caratteristiche della Chiesa è un dono immenso è un dono immenso che ci consente anche di passare attraverso momenti critici qui di tutto si sente adesso in giro ci sono stati di vescovi che caldeggiano addirittura in certi parti d'Europa già in realtà di fare i rituali per le benedizioni di qualsiasi coppia oi qualcuno a quanto pare io non seco molto che difende la legge 194 qualcuno che vorrebbe addirittura aprire all'eutanasia sono rumors io ripeto non vado troppo appresso a queste cose quindi sono rumors che mi arrivano io spero sempre che magari siano cattiverie di qualche interprete in mala fede però capite chi di speranza questo credo che sia un caso che chi di speranza vive il disperato muore quindi ma ci si trova dinanzi a cose di questo genere grandi prove permesse da Dio certamente grandi prove permesse da Dio perché il Signore comunque queste cose le permette c'è sicuramente un momento questo non è un mistero c'è una grande purificazione in atto anche dentro la Chiesa e quando ci stanno queste cose questi sono i grandi momenti di prova tu non reggi se non sei formato oggi non possiamo noi accontentarci per questo che il nostro Signore mi ha messo a fare queste cose cioè le serate intere i cicli dei catechesi io lo faccio molto volentieri no? e non sono l'unico ci sono tanti bravi sacerdoti che fanno le stesse cose che faccio io e che sono da ascoltare e da seguire però credo che il nostro Signore susciti queste cose perché in questo tempo è importante una formazione buona approfondita cioè se uno si accontenta della messa domenicale già non regge le sfide contro il mondo ma non regge neanche le prove che il nostro Signore sta permettendo che la sua stessa Chiesa la sua stessa sposa passi Chiesa e sposa che sta in sofferenza non è un mistero questo qui e non soltanto per tante vicissitudini legate a cattivi esempi a cose a storie brutte che hanno caratterizzato questi anni ma anche appunto per queste continue defiance che vengono non dall'esterno perché dall'esterno pace ma dall'interno e non sempre e non sempre tempestivamente vengono come dire redarguite adeguatamente io non voglio fare il nostalgico di Papa Benedetto ma Papa Benedetto qualche volta lo disse dice certo che se quelli che la pensano in un certo modo cioè che sono un po' più fedeli all'antico dicono mezza cosa tutti a darli subito addosso però quelli che pensano in maniera un po' novatrice anche quando le sparano grosse prima che gli danno addosso ci passa tanto tempo mi sembra disse con un suo intervento che non è che possiamo fare due pesi e due misure cioè se uno vuole essere severo è severo a 360 gradi e se uno vuole essere tollerante è tollerante a 360 gradi quindi a destra e a sinistra no? quindi altrimenti fai due pesi e due misure vabbè chiuso tutte queste parentesi adesso però questo per dirci cioè noi abbiamo un santo Tommaso che è stato sempre un supporter del Magistero e non è un caso che piaccia o non piaccia soprattutto il concilio di Trento che rimane uno dei concili più importanti della storia della Chiesa per il patrimonio dogmatico immenso che ha generato soprattutto per quanto riguarda i sette sacramenti ma non solo cioè hanno fatto copia e colla se c'erano i computer l'avrebbero fatto prima perché hanno dovuto trascrivere alcune cose ma l'avrebbero concluso molto prima prendevano la versione digitale della Suma facevano seleziona copia incolla e poi ci mettiamo votate votato approvato dai cardinali fine del documento perché hanno fatto così per certe cose di fatto bene detto questo torniamo al giudizio universale e andiamo a vedere appunto San Tommaso allora la quidditas del giudizio universale quello che si chiede San Tommaso è che bisogno c'è di duplicare un giudizio è stato già fatto il giudizio alle anime c'è il giudizio particolare dobbiamo farne un altro no abbiamo già visto la volta scorsa l'abbiamo già introdotto no allora il giudizio universale si chiama universale perché è il momento in cui saranno scoperti gli altarini il die sire il mitico die sire nil in ultum reman ebit allora le coscienze umane conosceranno anzitutto tutte perfettamente i propri meriti e demeriti ma questo accade già nel giudizio particolare ma ciascuno avrà coscienza delle opere altrui in modo tale che venga perfettamente glorificata la giustizia di Dio bisogna avere pazienza figlioli miei cari ti trattano male ti perseguitano c'è un bellissimo passaggio del libro della sapienza no dove dice quelli che perseguitavano i giusti si ritroveranno e tremeranno dice guarda questo è quello che l'abbiamo gli abbiamo rovinato la vita gliene abbiamo detto in canza che è una sporta l'abbiamo avvelenato oppure l'abbiamo ucciso morto martire e adesso e adesso si tratta soltanto figlioli miei cari di avere un bel po' di pazienza perché Dio nelle sue opere fa così vede cioè noi vediamo tante volte il dilagare del male alcune delle cose che c'è nato prima uno gli viene e dice ma perché non intervieni ma fa qualcosa ma ferma questo status quo ma se permetti che da dentro la chiesa stessa escono certe cose poi i fedeli si smarriranno saranno confusi c'è arrepentaglio la salvezza delle anime o uno dice ma dai forza intervieni perché il nostro signore non interviene non deve rendere conto a noi delle cose che fa ma stare tranquilli che se pazienta o permette certe cose ha le sue buone motivazioni noi capiremo tutto solo nel giudizio universale quando saremo morti capiremo quello che il signore ha fatto nella nostra vita ecco perché troppi perché non dobbiamo e non possiamo chiederceli e Dio non ci risponde in questo mondo perché la risposta è perché è posposta se qualche volta senza che tu glielo chiedi lui gratuitamente per aiutarti ti fa capire un qualcosa il senso di un evento il senso di una prova il senso di una situazione ringrazialo ma lui non è tenuto a farlo e queste cose ordinariamente sono rimandate a dopo dopo per quanto riguarda le cose accadute a te ripeto il giudizio universale per quanto riguarda le cose accadute nel mondo in tutta la storia si abbia la pazienza di arrivare al giudizio universale abbiamo concluso la volta scorsa anche credo se non ricordo male affermando che il tempo di questo giudizio San Tommaso su questo è perentorio è sconosciuto ad ogni ente creato abbiamo già visto una volta scorsa che Gesù stesso ha usato un'espressione che poi gli eretici hanno come sempre travisato specialmente gli ariani in primis ma non solo per affermare che Gesù non era veramente Dio ma neanche il figlio lo sa ma neanche gli angeli del cielo neanche il figlio ma solo il padre sa quel giorno e quell'ora non comprendendo che lì Gesù parlava in quanto uomo cioè in quanto Gesù ha due nature distinte quella divina e quella umana ma è chiaro che Gesù fino a quando stava sulla terra fino a quando era aviatore spiega San Tommaso le nature c'erano tutte e due e la natura divina funzionava perché Gesù leggeva i cuori perché Gesù faceva i miracoli perché Gesù bastava che aprisse bocca e gli ossessi e i demoni si avevano a gambe e tante altre cose però prevalentemente prima della glorificazione perché dopo la glorificazione i glorifici si sono invertiti quindi prevale come dire la natura divina pur rimanendo tutto e due allo stesso piano ma si manifesta di più rispetto a quella umana Gesù parla prima della glorificazione quindi si guarda che in quanto uomo cioè in quanto alla conoscenza umana che io ho quindi che prescinde che aveva anche questa Gesù dall'unione ipostatica e quindi da quello che so anche umanamente in quanto unita alla persona del verbo non lo so manco io questo era il senso corretto e vedete anche qui l'ausilio del magistero per non andare a sbarellare quando ci sono i passi i passi più critici no? tanta gente mi dice eh non sto a leggere sto a leggere la Bibbia che significa questo che significa questo oppure cioè mail che mi arrivano che poi non ce la faccia rispondo a tutte quante ragazzi questo è sempre un mio grande cruccio dico allora che faccio non leggo più la Bibbia dicono leggi la Bibbia però sta attento a quello che leggi sta attento a come lo leggi perché io posso fare pure qualche catechesi biblica ma non è che le catechesi bibliche poi ti ti autorizzeranno a imbarcarti come dire in maniera spregiudicata e garibaldina dentro il mare delle scritture perché guardate che delle sagre scritture gli ecclesiastici stessi chiamiamoli così ci hanno capito poco cioè lo stretto indispensabile che è necessario per per conoscere la verità di fede è necessario alla salvezza ma la stragrande maggioranza dei passi biblici sono misteriosi capite amici miei cari sono misteriosi quindi ecco vabbè quindi il tempo del giudizio è sconosciuto e sotto questo punto di vista vi prego amici miei cari diffidate diffidate quando sentite che oggi c'è un altro mare magnum che non finisce mai mare magnum che sicuramente voi capite dal cielo arrivano rivelazioni autentiche però capite che fa il diavolo il diavolo fa sempre così fa confusione perché se lui riesce a suscitare un certo credito ad una rivelazione presunta che poi appare certamente o molto probabilmente come tarocca qual è l'effetto è duplice primo che uno è diffidente di tutte le rivelazioni e secondo supponiamo che in quella rivelazione tarocca cosa che il diavolo fa sempre dica qualche cosa che è vera allora che cosa succede da un punto di vista psicologico siccome questa cosa è stata detta in quella rivelazione tarocca è falsa questo è satana allo stato pure amici miei cari tu dici ma come facciamo a raccabezarsi a difendersi eh amici miei cari io vi posso suggerire l'unione con la divina volontà e l'unione ancora non vorrei dire più grande ma concomitante con la madonna perché gli unici che ci possono dare una mano adesso eh sono la divina volontà e la madonna perché la confusione è grande ecco e non andare e non essere travolti in questo mare magnum non è cosa che possiamo fare con le nostre forze amici miei cari non si può vediamo cosa dice San Tommaso sul giudice e il suo aspetto oh adesso attenzione mettiamoci bene in testa e questo gli atei i senza Dio quelli che fanno si sfoghino il nostro Signore li fa sfocare cioè voi capite voi pensate per esempio una persona che dice una bestemmia che la bestemmia è proprio la cosa più becera più assurda che si possa fare cioè che è proprio è uno dei tanti inni alla idiozia proprio alla stupidità umana per questo cioè le bestemmie le fomenta il diavolo perché io glielo dico in continuazione quello che è tanto intelligente che era tanto intelligente a causa della perversione della sua volontà è diventato il più stupido essere che esista al mondo perché uno scusatemi che va a fare una cosa quindi a mettersi contro Dio capendo con la sua intelligenza con una battaglia persa e le conseguenze che quell'altro ci avrebbe avuto quindi che sarebbe stata per lui la fine e lo fa lo stesso può essere pure il numero due il più intelligente del mondo io non voglio cioè io probabilmente queste cose non le capisco ma cioè ma dico ma che razza che razza di cosa è è uno che bestemmia ma che cosa gli pensi di fare al nostro signore mia mamma mi raccontava che il mio bisnonno che era il suo nonno che non era credente per niente diceva sempre e non aveva mai sentito bestemmiare perché diceva la bestemmia se tu sei credente vergognati se credi a quello che dici se non sei credente vergognati lo stesso perché per due motivazioni primo perché sei un gran cafone perché comunque sia non è certamente un sinonimo di signorilità e secondo perché sei un grande idiota perché chi ingiuri ingiuri qualcuno in cui tu non credi in ogni caso la bestemmia è proprio è il nostro signore che fa vai 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 questo noi siamo ancora nell'economia salutis qui siamo ancora nel tempo in cui il nostro signore sulla terra si è manifestato nell'umiltà siamo nel tempo di Pasqua ma Gesù risorto l'hanno visti in pochi certo noi predichiamo il Vangelo in forza di Gesù risorto ma non c'è ancora come dire l'attestazione definitiva perché Gesù risorto noi lo 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 predichiamo perché attraverso la fede tu ti possa convertire ma l'aspetto del giudice il giudizio universale l'aspetto di Cristo sarà glorioso e ogni ginocchio dovrà piegarsi davanti a lui volente o nolente anche i dannati e attenzione i dannati lo fanno già adesso i diavoli quando nostro signore si affaccia nell'inferno lo riferiscono gli esorcisti e che gli hanno detto loro si mettono tutti in ginocchio non certamente perché vogliono adorarlo ma perché il suo impero li fa piegare contro voglia perché il nostro signore qui c'è il rispetto della nostra libertà libero arbitrio ma questo non sarà a tempo indeterminato o meglio per certi aspetti pure perché l'inferno è la prova del rispetto supremo del libero arbitrio da parte dell'altissimo ma però c'è anche qualche piccola violazione diciamo così no? non ti sei voluto in ginocchiare volontariamente e muoto in ginocchio per forza e muoto in ginocchi per forza quell'inginocchiarti per forza non serve a niente perché non dà né gloria a Dio né tantomeno da meriti a chi si inginocchia per forza ma è comunque un omaggio oggettivo alla verità che deve essere fatto e tu lo fai contro voglia sarebbe stato meglio se l'avessi fatto quando potevi farlo volentieri di tua spontanea volontà perché è un onore per noi stare in ginocchio davanti all'altissimo un grande onore noi le ginocchia non le pieghiamo a nessuno le ginocchia noi non le pieghiamo a nessuno e sottolineo nessuno meno che mai i tirannetti di turno anche se sono vestiti da da grandi democratici o cose di questo genere a nessuno le ginocchia si piegano a Dio e basta ma a Dio si piegano e come? non dico di arrivare al fervore di Santa Margherita Maria la Cocca che è rimasta 14 ore di seguito durante una veglia iper che ha fatto senza muoversi davanti al Santissimo se qualcuno c'è tutto quanto questo fervore si accomodi pure da tutta salute chi non l'ha fatto lo farà per forza e come ha detto Gesù nell'Evangelo voi ai dodici apostoli voi siederete in trono con me a giudicare le dodici tribù di Israele ci saranno a fianco a Gesù gli apostoli che Sant'Omaso dice giudicherà con lui giudicheranno con lui non certamente nel senso che solo Dio può giudicare in maniera perfettissima ma nel senso che faranno conoscere proclamandola la sua sentenza e quindi comunque gli siederanno a cala all'atele si dice oggi si dice in termini giuridico giudiziali comuni questo è quanto afferma Sant'Omaso poi attenzione torniamo per un attimo al catechismo perché è la vita del mondo che verrà aspetto l'esurrezione dei morti è la vita del mondo che verrà l'Apocalisse dice chiaramente io creo cieli nuovi e terra nuova nei quali avrà stabile rimano la giustizia anche qui figlioli miei cari mi raccomando vedremo che il catechismo della chiesa cattolica usa un linguaggio sobrio perché noi non possiamo non possiamo immaginare bene queste cose nemmeno nemmeno il senso per esempio assai opportunamente adesso lo leggeremo nel 1050 del catechismo della chiesa cattolica vedete come la chiesa è ben guidata no? specialmente con le cognizioni che ci abbiamo adesso pensate per esempio chi conosce tenera amata sappiamo bene che tutto ciò che è buono cioè che non è peccato non può essere distrutto da Dio viene semplicemente trasfigurato quindi non dobbiamo immaginare un po' infantilmente questi cieli nuovi cieli nuova terra nel senso che Dio distrugge tutto e fa qualcosa di nuovo ex novo questo è assolutamente inverosimile questo qui anche perché Dio non distrugge nulla di quello che ha creato di buono non distrugge neanche i dannati e neanche i demoni perché? perché pur essendo pervertiti l'essere Dio non glielo toglie quindi non c'è stupidaggine più grande di dire che il male verrà dissolto nel nulla perché il male verrà dissolto nel nulla il male ma non i malvagi i malvagi saranno tormentati per tutta l'eternità non saranno disolti nel nulla allora andiamo a vedere il catechismo prendo perché voglio proprio leggerle con i passaggi perché parla della della vita del mondo che verrà quindi della nuova creazione negli nei numeri 1042 e 1050 faccio prima una carrellata un pochino sintetica quindi nel 1042 e nel 1043 vedete il linguaggio no? afferma il pieno e definitivo compimento del regno di Dio nel 1044 il regno di Dio sugli uomini e quindi la fine dei dolori nel 1045 il pieno compimento del regno di Dio per l'uomo nel 1046 1047 il pieno compimento del regno di Dio per il cosmo nel 1048 specifica ancora che se ne ignora il tempo nel 1049 che l'attesa dei nuovi cieli e della terra nuova non giustifica il disprezzo della vita del mondo presente ma anzi e infine che tutto ciò che c'è di buono nel 1050 nell'uomo nel cosmo non sarà distrutto ma trasfigurato andiamo a leggere qualcosa di questi articoli dedicati appunto alla terra nuova subito dopo il giudizio universale a conclusione della nostra indagine 1042 alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza dopo il giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo glorificati in corpo e anima e lo stesso universo sarà rinnovato rinnovato allora la chiesa avrà il suo compimento finalmente la vedremo nella gloria del cielo quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo il quale è intimamente unito con l'uomo per mezzo di l'arrivo al suo fine sarà perfettamente ricapitolato in Cristo cioè noi vedremo la chiesa voi sapete adesso la chiesa noi che vediamo quasi niente perché la chiesa trionfante sta in paradiso la parte più bella non la vediamo la chiesa purgante nemmeno della chiesa militante noi vediamo non tutti quelli che fanno parte della chiesa militante vi do una brutta notizia mica tutti quelli che fanno parte della chiesa militante cioè i battezzati i cattolici andranno in paradiso molti entrano all'inferno pure ministri pure consagrati consagrate Santa Veronica Giuliana Giuliana ha visto pure gli zucchetti rossi all'inferno oltre che a quelli viola riferisci Santa Veronica Giuliani io non ci voglio mettere bocca voglio speriamo che non ci sia anche di peggio insomma perché con qualche testimonianza storica insomma di qualche vabbè insomma speriamo che non ci sia di più però speriamo non possiamo essere sicuri che non ci sia di più e quindi finalmente però vedremo la chiesa perché impara alla risurrezione della carne ormai il numero degli eretti è completo ricordate il libro della vita tutti quelli che erano scritti lì dentro li vedremo tutti quindi anche cioè la gente che si lamenta e la chiesa e gli scandali e la corruzione e le persone che dicono un sacco di frottole pure essendo preti pazienza adesso adesso di seda tanto Agostino adesso qui ma lo dice pure Gesù nel Vangelo qui stanno insieme i pesci marci e i pesci buoni c'è il regno di Dio è simile a una rete raccoglie tutti i pesci marci e i pesci buoni alla fine del mondo al giudizio e gli angeli che fanno buttano quelli cattivi al secchio e quelli buoni li tengono qui noi abbiamo all'interno della chiesa gente che della chiesa non fa parte mettiamocelo bene in testa perché i dannati non fanno parte della chiesa capite e qualcuno che non è visibilmente associato alla chiesa senza colpa attenzione senza colpa dobbiamo sottolinearlo 500 volte non uno che gli hanno annunciato il Vangelo non ci ha creduto e non si è voluto battezzare senza colpa e questo lontanto Dio lo sa potrebbe raggiungere la salvezza probabilmente proprio in sede di giudizio universale se per quello che conosce in base alla sua coscienza vive una vita retta e buona quindi ci sono alcuni che stanno dentro il corpo attualmente visibile che staranno fuori che non fanno parte della chiesa e alcuni che non hanno avuto la grazia di stare dentro misteriosi dei segni dell'altissimo ma che in forza della retenzione universale operata da Cristo e della mediazione universale che comunque la chiesa svolge anche attraverso chi non fa parte del suo corpo visibile raggiungeranno nei tempi e nei modi che Dio sa certamente a giudizio universale sicuramente sì la salvezza 1043 questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità nel mondo della sacra scrittura definito con l'espressione nuovi cieli e terra nuova sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di ricapitolare in Cristo tutte le cose vedete il cielo o comunque della terra vedete il linguaggio sobrio perché bisogna necessariamente avere un linguaggio vero quindi c'è una compimento del regno di Dio realizzazione definitiva del disegno di Dio perché perché il disegno di Dio che si realizzerà in pochi cioè nei membri della chiesa ma che nella testa sua deve essere per tutte le creature qual è? che cosa si fa in paradiso? si gode si gode l'amore di Dio e si gode l'amore universale con tutte quante le creature si partecipa dell'eterno godimento che Dio ha ed è in se stesso abbiamo capito no? con tutto quanto che ci siamo detti adesso qui no certo una persona che vive da santo ancora di più se conosce la divina volontà beh insomma vive un anticipo della felicità del cielo tanto più grande quanto più cresce in santità quanto più cresce in fusione la divina volontà però non stiamo in paradiso qui non diciamo sciocchezze qui siamo nella prova dopo no 1044 in questo nuovo universo c'è la Gerusalemme celeste l'Apocalisse 21 Dio avrà la sua dimora in mezzo agli uomini citazione ecco la dimora di Dio con gli uomini e poi c'era proprio il passaggio egli tergerà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più la morte nel lutto nel lamento perché le cose di prima sono passate adesso abbiamo da affrontare la morte dei nostri cari e vediamo come la affrontiamo la nostra morte vediamo come ci prepariamo i lutti le lacrime gli affanni le sofferenze adesso questo la volontà di Dio nella vita presente passa attraverso queste cose facciamoci pace mettiamocelo bene in testa la fine dei dolori arriverà per tutti dopo giudizio universale per alcuni nel momento in cui comincia la beatitudine ecco per gli altri dopo che termina il purgatorio e per qualcuno purtroppo mai che sono i dannati ancora 1045 per l'uomo questo compimento cito sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la chiesa nella storia è come sacramento coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti la città santa la sposa dell'agnello perché la chiama senza macchia e senza ruga ma solo in paradiso saremo senza macchia e senza ruga ecco perché però la chiesa noi la chiamiamo santa già da adesso perché la chiesa è senza ruga e senza macchia certo chi ancora fa parte sta nella prova qualche macchiolina se è santo macchiolina la contrae e può essere pure che ci sia qualche grande peccatore che si converte quindi che è qualche macchiolina è una fatta veramente Carlo in Francia prima della conversione quindi vedere la sposa dell'agnello pura quindi non più ferita dal peccato dall'impurità dall'amor proprio è propria del cielo la città santa la sposa dell'agnello la visione beatifica nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile agli eletti sarà sorgente perenne di gaudio di pace e di reciproca comunione e anche qui parla della visione beatifica ma sempre in termini sobri quanto al cosmo 1046 la rivelazione afferma la profonda comunione di destino tra il mondo materiale e l'uomo scrive San Paolo la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pura liberata dalla schiavitù e della corruzione sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto essa non era sola ma anche noi che possediamo le vivenze dello spirito li amiamo interiormente aspettando la rivelazione a figli la rivelazione del nostro corpo questo è Romani 81923 e quindi nel 1047 il Catechismo spiega che anche l'universo visibile è destinato ad essere trasformato in meglio non distrutto trasformato la parola chiave è questa trasformazione elevazione affinché il mondo stesso restaurato nel suo stato primitivo noi non vediamo adesso la creazione così come uscita dalle mani di Dio c'è rimasto qualcosa ma voi pensate che il pianeta Terra prima del peccato originale era così? qualcuno forse pensa che ci sarebbero stati terremoti tsunami alluvioni se non ci fosse stato il peccato dell'uomo la rivelazione non dice questo non ci sarebbe stato niente di tutto questo qualcuno pensa che se non ci fosse stato il peccato dell'uomo cioè se io me ne vado in Africa in qualche savana a vedere qualche leoncino perché mi piace vederli e poco poco scendo dalla jeep e me lo trovo davanti se io fossi innocente e non avessi peccato voi pensate che quel leoncino non ci sarebbe magnato perché adesso adesso ci magnano salvo quando il nostro signore ha fatto in qualche caso di martirio qualche miracolo o anche c'abbiamo nella Bibbia Daniele è buttato nella fossa dei leoni non l'hanno toccato poi quando Nabucodonos si è pentito e ci ha buttato dentro quelli che avevano chiuso dentro non hanno fatto manco un tempo a scendere dentro che si erano già magnati vivi d'accordo? quindi funziona così cioè è possibile che un animale irragionevole mi si rivolta contro e me se magna è possibile perché c'è stato il peccato dell'uomo chi adesso non voglio fare qui stiamo in ambito dogmatico no? ma chi conosce Tenera Mata dice noi avremmo la fusione l'interpenetazione col serpente a sonagli io se vedo un serpente a sonagli a me personalmente i rettili mi fanno proprio riprezzo con i serpenti c'è proprio l'idiosincrasia ma te faccio una corsa che non se sa qualche volta passeggiando in montagna andavo più piccolo vedevo qualche vipera ma se vedo soltanto una vipera ma nei corsi che faccio sono proprio insomma c'è proprio un'idiosincrasia con i serpenti ma allora non sarà così non sarà così noi non lo possiamo capire adesso ma come se il serpenti a sonagli non possiamo noi prestare la testa che abbiamo adesso al paradiso però possiamo facendo funzionare un pochino di intelligenza capire che è molto verosimile una cosa di questo genere no? anche se non ci lo possiamo immaginare quindi il mondo stesso restaurato nel suo stato primitivo sia senza più alcun ostacolo al servizio dei giusti partecipando alla loro glorificazione di Gesù Cristo risorto partecipando alla loro glorificazione di Gesù Cristo risorto pensate a quando Teneramata dice che il compito degli esseri umani sacerdoti del cosmo sarà di tra virgolette glorificare gli esseri non intelligenti gli animali per esempio che non possono avere la visione beatifica ma che pensate che nella nuova creazione non ci saranno tutte le cose belle non ci saranno tante le cose belle che Dio ha fatto ma scherziamo? cioè che questo paradiso sarà una specie di mega auro dove ci stanno soltanto gli esseri umani insomma è un po' è un po' limitato no? nostro signore strafa fa le cose in grandi ecco su questo vedete la differenza guardate il linguaggio della chiesa che è sobrio no? e deve esserlo perché cioè non si può dire di più nel catechismo poi c'è però la rivelazione privata o qualche teologo classico che ti aggiunge dei dettagli che non cioè che cosa ti sta dicendo di più di questo? niente cioè l'universo visibile destinato ad essere trasformato partecipa alla glorificazione in Gesù Cristo risorto in che senso e come? ecco te leggi te le ramate e te fai un'idea ignoriamo il tempo in cui saranno portate al compimento la terra e l'umanità e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo vedete che molte volte anche quando mi fanno troppe domande anche mi dico non lo so cioè perché non è che sappiamo tutto quanto alcune cose cioè specialmente le cose non necessarie alla nostra salvezza Dio non le rivelate non serve saperle che ti importa come sarà trasformato l'universo poi lo vedrai in meglio sarà bellissimo basta e avanza passa certamente all'aspetto di questo mondo deformato dal peccato e sappiamo dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri che salgono al cuore degli uomini tuttavia l'attesa di una nuova terra non deve indebolire bensì piuttosto stimolare e sollecitare la sollecitudine nel lavoro dell'attivo della terra presente eccetera eccetera no e infine 1050 molto importante i beni della dignità dell'uomo della comunione fraterna della libertà tutti questi buoni frutti della natura della nostra operosità dopo che li avremo diffusi sulla terra nello spirito del Signore secondo il suo precetto li ritroveremo di nuovo purificati da ogni macchina illuminati e trasfigurati allora quando Cristo rimetterà il Padre il Regno Eterno Dio allora sarà tutto in tutti la vita nella sua stessa realtà e verità la vita nella sua stessa realtà e verità è il Padre che attraverso il Figlio nello Spirito Santo riversa come fonte su di noi tutti i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna chiudiamo una piccola riflessione sistematica sul giudizio universale in sette punti siamo perfettamente nei tempi allora il giudizio universale avviene dopo la parusia e la risurrezione della carne è la conclusione della storia della salvezza è il compimento definitivo della volontà di Dio e del suo disegno salvifico secondo punto terzo è la manifestazione pubblica ed universale della regalità di Cristo e dell'assoluta giustizia con cui Dio ha governato la storia e la vita di ogni singolo uomo questo lo vedremo manifestazione pubblica ed universale di queste cose tutti quarto conosceranno questa perfetta giustizia divina e tutti i perché avranno una risposta pubblica davanti agli occhi di tutti quinto il cosmo sarà rinnovato e ci sarà virgolette un luogo rinnovato se vogliamo per certi aspetti ricreato da Dio in cui beati i risorti vivranno e godranno per tutta l'eternità a differenza dei dannati per i quali vedere l'ultimo atto della storia della salvezza completerà la misura già fin troppo colma dei loro eterni tormenti e da dopo quel momento particolare non indifferente ci sarà un abisso incolmabile i diavoli staranno fuori dai piedi insomma non è poca roba i delinquenti i malvaggi i cattivi i peccatori staranno fuori dai piedi perché non è gradevole adesso noi qui i peccatori dobbiamo i diavoli dobbiamo stare lontani dobbiamo combatterli su tutti quanti i fronti i peccatori però siccome potrebbero convertirsi dobbiamo sopportarli dobbiamo pregare per loro perché finché c'è vita c'è speranza poi basta però è una vita che ci ho passato tutta la vita terrena basta e il nostro signore stai tranquillo basta hai sopportato abbastanza adesso basta scomparirà il purgatorio non c'è più purgatorio e per chi ammette l'esistenza del limbo e su questo io per esempio prendo le distanze da Sant'Ommaso perché Sant'Ommaso afferma che il limbo è eterno io ecco questa è un'altra cosa che è come quella del Papa eretico che ho detto prima mi ripugna assolutamente perché perché per quanto è indubbio che il peccato originale priva della visione beatifica siccome comunque queste anime sono innocenti di peccato proprio di peccato personale e non hanno nessuna colpa neanche che sono state battezzate poverine perché non sono venute al mondo ovviamente il limbo dei bambini pensate a tutti i bambini abortiti poverini guardate che l'anima non ha età se uno manda in paradiso un bambino non nato con una semplice messa non è affatto escluso che quell'anima stia a gradi di gloria paragonabili a chissà quale grande grande santo perché si non ha avuto meriti propri personali però non c'è avuto neanche la possibilità di macchiarsela l'anima perché tolto il peccato originale quell'anima era uno spettacolo quindi vedete che ogni cosa cioè la sapienza di Dio dispone perfettamente ogni cosa c'è sempre un pro e un contro quindi io personalmente e dici che senso c'ha? certo che c'ha senso perché il fatto che entrino a godere della visione beatifica quei poverini che sono stati abbandonati nel limbo e nessuno li ha soccorsi e ci vuole poco a farlo prima del giudizio universale il fatto che entrino in paradiso al giudizio universale facciamo attenzione al giudizio universale è la glorificazione delle opere di Dio nella storia che ti avevo detto io che il battesimo è indispensabile per la salvezza questi non sono stati battezzati né prima e neanche con qualche scamotage non troppo difficile da capire dopo e allora in forza della giustizia era giusto che rimanessero in questo stato pieno giudizio universale dopo no però dopo no perché non hanno fatto nessuna colpa propria io che ho istituito i sacramenti non sono limitato dai sacramenti io gli posso togliere la macchia originale prima di farlo entrare in paradiso che è l'unica cosa che hanno in virtù della retenzione che ho compiuto e della mia fine della misericordia ora volendo concludere con un pensierino abbiamo fatto un tutte le cose di cui abbiamo parlato i novissimi fanno parte di quella branca della teologia che si chiama con una parolaccia escatologia non ha niente a che fare con le scatole quando usate escatologia dice che è una cosa a che fare con le scatole no escaton in greco significa abbiamo già detto cose ultime quindi l'escatologia etimologicamente significa discorso la logos logia sull'escaton quindi sulle cose ultime ora a che pro e il pro è importantissimo ed è quello che ci deve rimanere a chi ha seguito questo circo di catechesi perché questo è il motivo per cui è stato fatto prendere coscienza di quanto e come con questi pochi anni perché fossero pure cento sono sempre pochi anni che viviamo sul pianeta Terra noi ci giochiamo per filo e per segno la sorte eterna campi cent'anni ma voi capite che cos'è cent'anni dinanzi che cosa sono cent'anni dinanzi all'eternità amici cari l'eternità non finisce mai cioè il giudizio universale ne lascia due paradiso e inferno ma capite che significa essere dannati per tutta l'eternità e non pensiate come dice San Giovanni Battista dice non pensiate abbiamo Abramo per padre o che all'inferno non ci va nessuno o che nessuno è mai tornato per dirci com'era falso leggete l'esorcismo di Verdicare Andie questo lo devono leggere i preti quello è un prete dannato la testimonianza come si chiama quella lì stanno in giro online di Anna mi sembra che sia non mi ricordo c'erano due amiche una era morte se era dannata e il nostro signore gli ha mandato l'amica in terra per forza perché non ci sarebbe mai andata a dirgli state attento che io sto all'inferno o anche la testimonianza di Gloria Polo a cui come già promesso l'anno prossimo spero se Dio vorrà questa è l'intenzione non si sa di dedicare un ciclo di catechesi ad hoc ma anche se uno scampa l'inferno voi capite finita la vita terrena non ti aumenta l'abbiamo visto la gloria che ti meriti non ti aumentano neanche di mezzo millimetro fate pure 15 150 mila anni di purgatorio sono troppi non si è dato il suo tempo ma non ti aumenta il merito di mezzo millimetro ma sarà cosa da persone intelligenti occuparsene adesso o no gli esiti possono essere due solo due infinitamente distanti l'uno dall'altro la somma beatitudine con i sommi tormenti la vita di mezzo non ci sta quindi a noi sceglierci fin da oggi il nostro destino eterno sperando di utilizzare al meglio quel cervelletto che il nostro signore ci ha dato e che quando è illuminato come deve dalla fede ecco e dalla buona volontà può portarci molto in alto in grazia e in santità Dio vi benedica e la santa vergine sempre tutti vi protegga e la santa vergine e la santa vergine